ogni mese un angelo è accanto a noi e ci guida leone questo il tuo io sono l'angelo che cambia la routine giornaliera io riempio di magia la vita degli esseri umani e a te do la luce di cui hai bisogno per creare il tuo proprio paradiso accetti un regalo ti do trasmutazione e cambiamento grazie